Musica Benvenuti al TG10, l'avertura oggi dal telegiornale la dedichiamo alla politica, ci occupiamo in particolar modo del ricorso presentato dal gruppo che fa riferimento all'ex sindaco di Gela Angelo Fasulo alla commissione di garanzia provinciale del Partito Democratico in merito all'elezione del segretario locale Peppe Di Cristina, la stessa commissione oggi lo ha rigettato ritenendolo immotivato, sentiamo ai nostri microfoni Giacomo Gulizi della direzione regionale del PD C'era un ricorso, Giacomo Gulizi presentato da alcuni esponenti del Partito Democratico che fanno riferimento all'ex sindaco Angelo Fasulo, i quali non riconoscevano l'elezione dell'attuale segretario cittadino Peppe Di Cristina avvenuta qualche settimana addietro Oggi la commissione provinciale si è espressa nel merito rigettando proprio il ricorso Sì, la commissione provinciale ha dichiarato che tutti i passi che sono stati effettuati per eleggere segretario a Giuseppe Di Cristina sono stati tutti dei passi ritenuti leciti dalla commissione di garanzia provinciale Adesso loro spetta solamente se vogliono di fare ricorso in commissione regionale La cosa invece che non va bene è che loro nei fatti, almeno nei manifesti, stanno organizzando un controcongresso Come se da un lato cercano la via legale all'interno del PD facendo ricorso nelle commissioni provinciali Dall'altro non si capisce cosa vogliono ottenere Ma nel ricorso presentato dall'ala che fa capo all'ex sindaco di Giallo Angelo Fasulo, loro cosa sostenevano? Loro sostenevano che i delegati che sono stati contabilizzati per l'anno 2013 dovevano essere invece quelli dell'anno 2015 Però siccome c'erano degli eventi successi all'interno delle varie commissioni provinciali Quindi di fatto hanno accertato che l'operato nostro va bene, quindi Di Cristina è il segretario del PD Però è inutile girarci attorno al problema, è un PD spaccato a Gela Sì, infatti dobbiamo riuscire a superare questa impasse Cioè dobbiamo lottare tutti per la città, dobbiamo capire che gli spazi ci sono per tutti E quindi io l'invito che faccio alla vicina Fasulo è quella di riunirci attorno a un tavolo E cercare sempre di andare avanti e di non cercare le vie legali o di cercare di creare altri contro congressi Perché questo fa sì che fa stufare la gente di votare il PD Quindi credo che questo modo di agire loro non ci porti da nessuna parte Tranne se hanno idee diverse che è quello di fare commissariare il partito Ma qui non si parla più di politica ma si parla di distruzione del PD Dunque domenica prossima il congresso o il contro congresso così come è stato definito si farà ugualmente? Secondo me si tratta di un'assemblea di un'area ma di un'area all'interno di un'area più grande Perché non voglio ricordare che l'area Lupo che fa riferimento a sembra l'area Renziana È all'interno di questa direzione dove ci sono io, c'è il consigliere Cilignotta, c'è la consigliera Romina Morselli E siamo tantissimi altri iscritti del PD che siamo sempre Renziani Grave lutto nella famiglia Eurotec e Gela Calcio si è spento la scorsa notte a causa di un infarto Carmelo Tuccio, 65 anni, che vediamo nella foto Fratello del presidente Angelo Tuccio Carmelo ha sempre collaborato con la società Bianca Azzurra Un vero e proprio punto di riferimento Domenica scorsa lo stadio era felicissimo dopo la netta affermazione contro la Libertars E il suo auspicio confidato agli amici era quello di vedere il Gela prodare in serie D Il presidente del Gela Calcio, Angelo Tuccio, si trovava a Roma quando ha appreso la terribile notizia In una nota la società Bianca Azzurra sottolinea che si tratta di un vuoto incolmabile Una perdita che ci lascia increduli e pieni di lacrime Carmelo Tuccio, fratello del nostro presidente, non c'è più Ci ha lasciati la scorsa notte un amico, un consigliere, un uomo saggio e mite E semplicemente una grande persona che ci mancherà in maniera indescribile Alla famiglia Tuccio, al nostro caro presidente Angelo Le più sentite e sincere condoglianze da parte di tutta la dirigenza Bianca Azzurra Dello staff tecnico e sanitario, degli atleti e di tutti i collaboratori Che in questo momento di così grande dolore si uniscono a voi in un caloroso abbraccio Ciao Carmelo Anche la nostra redazione si associa al cordoglio I funerali di Carmelo Tuccio probabilmente saranno celebrati domani pomeriggio Il Gela domenica prossima in occasione della gara a Casalinga con il Campofranco Giocherà con l'alutto al braccio e prima della partita sarà osservato un minuto di silenzio Un gelese di 65 anni è precipitato nel vuoto mentre stava lavorando su un ponteggio all'interno di un cantiere privato Ha riportato diverse fratture e sul posto sono arrivati i sanitari del 118 Verrà sottoposto a tutti gli accertamenti compresa l'attacca dai medici dell'ospedale Vittorio Emanuele Avrebbe battuto violentamente la testa riportando danni anche nella zona toracica E adesso parliamo di MUOS La Cassazione ha confermato il sequestro dell'impianto satellitare americano Che sorge in Contradaurmo a Niscemi E' certamente sussistente quantomeno per la prosecuzione dei lavori in epoca successiva all'annullamento del provvedimento di revoca delle revoche La consumazione a livello indiziario dell'areato di abuso edilizio nella realizzazione di infrastrutture militari Costituenti il sistema radar americano MUOS in Sicilia E' quanto scrive la Cassazione nelle motivazioni depositate in merito alla conferma del sequestro del MUOS Che rileva il verdetto è stato disposto con finalità di salvaguardia dell'ambiente e della salute degli abitanti Ad avviso della Cassazione non ha meritato accoglimento la tesi della vocatura dello Stato Che per conto del Ministero della Difesa chiedeva l'annullamento della conferma del sequestro del MUOS Che sorge in Contradaurmo a Niscemi Secondo l'avvocatura erariale il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana Ha sostanzialmente sancito le piene regolarità urbanistica dell'opera E la validità dell'autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla sovrintendenza ai beni culturali ed ambientali di Galtanissetta E del nulla osta dell'azienda regionale Foreste Residuando solo accertamenti su eventuali pericoli per la salute umana Nella sua memoria difensiva l'avvocatura dello Stato ha insistito nel dire che i rischi per la salute degli abitanti Sono del tutto estranei alle esigenze cautelari perseguite con il decreto di sequestro che esulano dalla contestazione provvisoria La Cassazione ha replicato che la sentenza amministrativa non solo non ha affermato la illegittimità dei provvedimenti di revoca delle revoche Ma ha disposto ulteriori accertamenti sui pericoli per la salute dell'uomo nell'insediamento in questione Pericoli che, prosegue la sentenza della terza sezione penale relativa all'udienza svoltasi lo scorso 21 gennaio Non sono certamente estranei ai valori tutelati dalle norme in materia paesaggistica ed ambientale Va ricordato al riguardo che l'ambiente non costituisce solo un valore estetico da salvaguardare nella sua staticità Ma luogo nel quale l'uomo esprime la propria personalità individuale e sociale senza pregiudizio per la salute Elevata a diritto fondamentale dell'individuo ed interesse della collettività Con questa decisione la Suprema Corte ha confermato l'ordinanza con la quale il Tribunale della Libertà di Catania Lo scorso 27 aprile aveva confermato il sequestro del sistema satellitare americano Intanto un dirigente della regione siciliana e sei imprenditori saranno processati il prossimo 20 maggio davanti al Tribunale monocratico di Caltagirone per abusivismo edilizio e violazione della legge ambientale per la costruzione proprio del MUOS lo ha deciso il procuratore Giuseppe Verzera che ha firmato un decreto di citazione diretta a giudizio Secondo l'accusa avrebbero realizzato l'impianto senza la prescritta autorizzazione assunta legittimamente o in difformità da essa ed avrebbero eseguito i lavori per la realizzazione del MUOS insistenti su beni paesaggistici all'interno della riserva orientata denominata Sughereta di Niscemi in zona A di inedificabilità assoluta in un sito di interesse comunitario Torniamo a Gela che fine ha fatto la zona franca sanitaria un progetto di agevolazioni sanitarie fra i quali il punto più importante è lo screening per la prevenzione del tumore in una città dichiarata ad alto rischio ambientale a sollevare il problema è Silvio Lisciandra, presidente dell'associazione Corsa per la Vita sulla vicenda Lisciandra sottolinea la latitanza dell'attuale amministrazione ed il fallimento totale dell'attuale commissione sanità preseduta da Virginia Farruggia l'associazione Corsa per la Vita rivolge anche un appello ai due deputati giolesi Pino Federico e Giuseppe Arancio affinché la zona franca sanitaria possa divenire realtà Diversi esercizi commerciali, bar, comprooro, sala giochi ed internet point passati al setaccio da parte degli agenti del locale commissariato di polizia diretti da Francesco Marino su disposizione del questore di Caltanissetta Bruno Megale Due pensionati giolesi di 86 e di 80 anni sono stati deferiti per omessa comunicazione all'autorità di polizia della variazione del luogo di detenzione delle armi denunciate Inoltre è stato controllato un autolavaggio di contrada Margi di proprietà di una 32enne all'interno del quale sono state rinvenute 5 moto da cross di cui una con il telaio palesemente contraffatto e le altre sprovviste della regolare documentazione Non essendo in grado di dimostrare la provenienza dei veicoli i mezzi sono stati sequestrati cautelativamente ed il titolare è stato deferito all'autorità giudiziaria per l'ipotesi della reato di ricettazione Inoltre la polizia sta avviando la posizione del titolare circa il possesso della licenza per la gestione dell'autolavaggio 35 le persone controllate saranno approntati altri controlli ai vari esercizi pubblici presenti sul territorio al fine di verificare il rispetto delle normative vigenti Continua inoltre la peculiare attività di verifica delle licenze di armi in merito all'attualità dei requisiti psicofisici e morali dei titolari E i carabinieri hanno arrestato un operaio mazzarinese di 46 anni in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall'ufficio esecuzioni della procura della Repubblica di Galtanissetta Si tratta di Giovanni Siciliano Deve scontare 5 mesi e 24 giorni per estorsione aggravata in concorso e rapina aggravata reati commessi nell'ottobre del 2006 per favorire la consorteria mafiosa L'arrestato è stato tradotto nel carcere di Contrada Balate a Gela Il forte acquazzone che si è abbattuto questa mattina su Gela è stato accompagnato, così come vediamo dalle immagini, da intense grandinate Residui di ghiaccio sono stati ritrovati sulle strade Un fenomeno abbastanza insolito per Gela La pioggia ha trasformato Via Venezia in un vero e proprio fiume Il livello dell'acqua ha superato quello dei marciapiedi Tombini in tilt Secondo le previsioni in meteo il maltempo è previsto per tutta la giornata di oggi ed anche nella mattinata di domani Come ogni venerdì torna stasera a Gorà il rotocalcolo settimanale ideato e condotto da Franco Gallo che si occupa di Gela e dei Gelesi Nella puntata odierna tratterà un tema che in passato è stato asse trainante dell'economia di questo territorio e che dopo la grave crisi industriale dovuta alla chiusura dell'epopea della raffinazione petrolifera potrebbe tornare ad essere il settore di punta dello sviluppo della città Si parlerà di agricoltura con i suoi problemi e le sue difficoltà ma anche con le sue grandi potenzialità Quello che è stato definito il granaio di Roma e che più recentemente ha dato da vivere a tantissime famiglie Gelesi potrebbe trovare un nuovo slancio proprio dalla depressione creata dall'abbandono di Eni Se ne parlerà come dicevamo questa sera sul Canale 10 con Agora e con i suoi ospiti in studio Appuntamento a partire dalle 21 sulla nostra emittente Ed ora parliamo del progetto Facciamo Rete Civica che vede coinvolti gli agenti della Polizia Municipale di Gela Facciamo Rete Civica Il progetto che vede coinvolti gli agenti della Polizia Municipale di Gela L'obiettivo è quello di potenziare l'ufficio formazione del comando dei Vigili Urbani i cui interventi adesso saranno estesi anche alle famiglie e ai cittadini comunitari ed extracomunitari È un progetto la cui finalità è molto semplice è quello di risvegliare la coscienza civica all'interno della nostra società gelese e coinvolgendo non solo i cittadini di Gela ma coinvolgendo anche quei soggetti che vengono dall'esterno come gli extracomunitari e come gli stranieri comunitari affinché anche loro possano essere coinvolti in questa rinascita della coscienza civica In che cosa consiste? Consiste nella necessità di far capire qual è la razza teleologica delle regole che lo Stato italiano impone a tutti i cittadini italiani riconoscendo loro diritti e doveri Gli assessori comunali Eugenio Catania e Licia Abela Credo fortemente che non solo la repressione ma anche la parte educativa della Polizia Municipale deve essere potenziata Tramite quindi l'aiuto di tutta l'amministrazione oggi inauguriamo dei nuovi corsi dell'Ufficio Formazione della Polizia Municipale a cui verrà data nuova linfa, insomma mezzi, strumenti e personale per espletare queste nuove funzioni Uno dei corsi è il corso che riguarda l'educazione stradale per i genitori dei ragazzi di tutte le scuole di ordine e grado L'altro è un corso per l'integrazione degli immigrati, degli stranieri nella nostra città sia extracomunitari che comunitari questo rientra in un programma che è anche di maggiore sicurezza per la città di Gela rispondendo ai criteri di prevenzione generale che non si articola solamente nella parte repressiva ma anche in un'attività formativa attiva per fare capire alla gente che rispetto delle regole serve per la sicurezza di tutti I servizi sociali e istruzioni coinvolti in questo progetto si consolida sempre di più la sinergia tra i vari settori del comune di Gela e ancora una volta proponiamo ovviamente oltre all'educazione stradale rivolta ovviamente ai ragazzini che frequentano le scuole di ogni ordine e grado del comune di Gela anche una formazione nei confronti ai genitori quindi un servizio che va oltre, un servizio che vuole veramente andare alla sostanza e quindi mirare ad una vera educazione ad un'educazione del cittadino che si pone in maniera civile nei confronti della cittadinanza è prevista per oggi alle 17 nei locali della libreria Mondadori di via Marconi 25 a Gela la presentazione del libro Fiammetta di Emanuela Abbadessa dialogherà con l'autrice il dirigente scolastico Sandra Scicolone nel corso dell'incontro si trarà anche una degustazione di dolci offerta dalla ditta Alaimo di Delia e domani alle 18 sempre nei locali della libreria sarà presentato il libro L'Opera dei Pupi di Gabriele Cantella dialogherà con l'autore il giornalista Andrea Cassisi previsto l'intervento dell'avvocato Dario Federico e giovedì 17 marzo alle 17.30 al liceo classico Eschilo organizzata dall'Uni3 preseduta da Angela Scaglione si terrà la presentazione del libro di Salvatore Buscemi c'erano una volta i giochi modererà i lavori la giornalista Fabiola Polara prevista tra gli altri la presenza dell'assessore comunale all'istruzione Licia Abela ci fermiamo linea alla regia per la pubblicità seconda parte del telegiornale che apriamo parlandovi della presenza a Gela di Giuseppe Caltabiano che mancava dalla città natale da 30 anni è arrivato oggi a Gela dopo 30 anni Giuseppe Caltabiano il senior manager di una delle più importanti società di sicurezza dei pagamenti elettronici al mondo Giuseppe Caltabiano 54 anni parla sei lingue e ha operato in cinque continenti la sua storia privata e professionale pur essendo stata molto intensa non ha mai dimenticato le sue origini tanto da aver chiamato il suo cane Attia ed avere personalizzato la targa della sua automobile con il nome Sicilia lasciò Gela dopo la maturità scientifica per andare a studiare ingegneria elettronica al Politecnico di Milano da giovane laureando ha lavorato per una società dell'Olivetti poi per la Philips, la Fingros, Card System di Berlusconi la Verifon per quest'ultima società si trasferì in seguito a Londra e a Singapore quando però Verifon fu acquistata da HP Caltabiano e tutti i vecchi dipendenti furono licenziati l'Oriundo gelese non si perse d'animo si trasferì in Australia creò la società Smart City si associò a Cyber.net e tornò in Italia per lanciare prodotti in Europa una nuova crisi economica lo tagliò fuori ancora dal mercato ma Caltabiano riuscì nuovamente a risalire la china proponendosi come amministratore delegato multiproprietà per poi rilanciare la sua azienda nello stato del Montana vedere l'affetto, l'amore, vedere Padre Alabiso che era il mio parroco all'oratorio vedere i miei vecchi amici vedere il mare, vedere tutti voi è un regalo che nessuno potrà mai eguagliare per cui ringrazio tutti e spero, spero che ci sia la luce alla fine di questa galleria e che i ragazzi crescano per portare una parola di contentezza e di successo da Gela nel resto del mondo A Giuseppe Caltabiano Monsignor Grazia Labiso ha regalato l'icona di Maria Santissima d'Alemanna patrona di Gela Oggi è una giornata importante perché stiamo ospitando un figlio della nostra città che è andato fuori per motivi di lavoro come tanti i nostri concittadini che però noi stiamo chiedendo oggi di farsi testimone di farsi portatore delle bellezze di Gela in modo tale da poter avere dei nostri rappresentanti che possono incentivare le persone a venire qua a Gela per ammirare le bellezze che abbiamo Presso la sede della Confcommercio Ascomo Gela martedì 15 marzo dalle 15.30 alle 19 avranno inizio i corsi HACCP per alimentaristi della durata di 12 ore martedì 29 marzo invece dalle 15.30 alle 18.30 avranno inizio i corsi di nuovo HACCP per alimentaristi della durata di 6 ore per le iscrizioni gli interessati possono rivolgersi alla segreteria della Confcommercio dalla lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19 per informazioni c'è un numero telefonico 0933 939718 torna in scena la solidarietà domani alle 21 al Palacosica di Gela si svolgerà il concerto spettacolo di beneficenza insieme per Salvatore l'evento attraverso il quale verranno raccolti fondi per Salvatore Spene il gelese che ha bisogno di cure mediche costose in Germania per combattere la patologia con cui combatte da oltre un anno vedrà ancora una volta la partecipazione degli artisti gelesi uniti il comitato di cantanti musicisti, danzatori ed attori che animerà la serata con esibizioni live vediamo domani sera al Palacosica c'è un appuntamento importante per raccogliere fondi da destinare proprio a Salvatore Spene sì, domani sera ci sarà un'altra serata a favore di Salvatore questo grazie agli artisti agli artisti uniti che si sono di nuovo prodigati nel darci una mano come sempre grazie a questi continui aiuti da parte di tutti voi riusciamo a continuare questi cicli di cure che purtroppo sono abbastanza costose quindi richiedono continuamente l'aiuto da parte di tutti perché come ben immaginate da soli non ce la facciamo intanto come sta Salvatore? Salvatore sta benissimo la terapia sta procedendo bene lui risponde abbastanza bene e quindi possiamo continuare ancora i cicli e sperare nella guarigione totale come sarà sviluppata domani la serata? domani sarà organizzata più o meno come è andata diciamo nelle altre occasioni avremo delle band degli artisti, cantanti, ballerini, attori che si esibiranno gratuitamente per Salvatore e poi c'è una chicca particolare perché avremo ospiti due ospiti di eccezione direttamente alla trasmissione insieme avremo il cabarettista Sasa Salvaggio e il presentatore Cristiano Di Stefano anche loro totalmente in maniera gratuita hanno sposato la causa di Salvatore e saranno presenti per arricchire il parterre di ospiti domani al Palacossiga e come verrà la raccolta fondi? la raccolta fondi sarà semplicemente al buon cuore di chi verrà l'ingresso è libero quindi chi vuole può venire tranquillamente non c'è biglietto a acquistare non c'è nulla da acquistare però ovviamente chi vuole potrà lasciare lì in un banchetto una donazione per Salvatore lo scopo è questo cercare di raccogliere quanti più fondi per consentire a Salvatore di continuare questa battaglia che sta conducendo con grande forza e con grande determinazione i risultati ci sono il primo ciclo è andato bene cerchiamo adesso di avere i fondi per garantirgli anche il secondo ciclo una notizia di sport gara casalinga per il Machitella Gela nel campionato di promozione domani alle 15 i biancorossi riceveranno la visita del Marina di Ragusa gara valevole per la ventisesima giornata il Marina di Ragusa a quota 26 punti a reduce dallo 0-0 contro il Santa Croce il Machitella invece nell'ultimo turno ha osservato il riposo prima della gara sarà osservato un minuto di silenzio per ricordare Carmelo Tuccio fratello di Angelo Tuccio presidente del Gela Calcio il Machitella Gela esprime tutta la sua vicinanza e porge le sue condoglianze a nome di società squadra e staff la pagina dello spettacolo è fuoco a mare il film in programmazione al cine teatro antitoto di Machitella Gela sono tre i orari 17.30 19.30 e 21.30 e sabato 19 marzo alle 21 sempre all'antitoto è prevista la rappresentazione teatrale è tutta una farsa commedia brillante in due atti di Emanuele Gianmusso per informazioni ci sono due numeri telefonici 0-9-3-3 8-2-2-7-0-7 e 3-3-8 7-1 4-3 2-9-3 i biglietti sono in vendita presso il botteghino tutti i giorni dalle 17 alle 20.30 sempre sabato 19 marzo alle 21 al teatro Eschiro la compagnia Liotru porterà in scena le sorprese del divorzio per informazioni 342-7452-695 o presso il botteghino del teatro abbiamo concluso anche per oggi grazie per averci seguito appuntamento alle prossime edizioni per averci seguito a tutti i giorni per averci seguito per averci seguito per averci seguito per averci seguito